numero 6 la texture delicata di questa crema è adatta sia a pelli normali che secche donando idratazione profonda e luminosità la crema corpo idratazione sublime disseta la pelle assicurando ai tessuti l'ottimale equilibrio idrolipidico in qualsiasi condizione climatica rinforza le barriere naturali e aiuta a prevenire la disidratazione ottimo prodotto per qualità prezzo in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 5 l'olio di Tsubaki è tradizionalmente usato in Giappone per la cura della pelle grazie alle sue proprietà emollienti idratanti ed antiossidanti questa soffice crema è l'ideale per proteggere quotidianamente la pelle e mantenerla morbida ed idratata ottimo prodotto per qualità prezzo numero 4 crema corpo multisensoriale effetto seta per regalare alla pelle una vera e propria coccola emolliente ed idratante si differenzia per la soffice texture che avvolge la pelle e la rende istantaneamente liscia e vellutata delicata fragranza alla rosa simbolo di femminilità ed eleganza purezza e sensualità va applicata quotidianamente su tutto il corpo massaggiando fino al completo assorbimento ideale dopo il bagno o la doccia acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 3 crema profumata alla vaniglia ideale trattamento per il corpo che con la sua gradevole profumazione seduce irresistibilmente l'olfatto con stimoli che attivano la carica vitale il nutrimento della pelle è garantito dagli oli di macadamia e mandorle dolci dal burro di aloe e dalle bacche di rosa canina ricca di vitamina c e vitamina e ripristinano elasticità e tono donando una insuperabile morbidezza ideale per le pelli secche numero 2 una nuova specialità per il corpo dalla texture ultrasensoriale che associa la leggerezza di una crema fluida alla ricchezza di un selezionato mix di oli dall'efficacia elasticizzante e riparatrice l'estratto di cedro del garda ricco di vitamina c assicura una preziosa azione illuminante e rivitalizzante facilmente assorbibile e dal fresco profumo agrumato dona immediata elasticità e comfort all'epidermide in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 1 una crema incredibilmente soffice voluttuosa e deliziosamente profumata una morbida tentazione che coinvolge tutti i sensi in un rituale di benessere per il corpo e lo spirito ricca di oli essenziali ed estratti mediterranei che regalano energia e vitalità mentre olio di germe di grano ed estratti di pesca e albicocca nutrono e idratano la pelle lasciandola luminosa morbida e meravigliosamente vellutata ideale dopo il bagno o la doccia